I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria con il supporto dei reparti territorialmente competenti dello squadrone carabinieri e riportato cacciatori e dell'ottavo nucleo elicotteri di Libbo Valencia in collaborazione con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria coordinati dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Capo Dottor Giovanni Bombardieri hanno eseguito l'ordinanza di applicazione di misure cautelari e decreto di sequestro preventivo emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria Dottoressa Catalano su richiesta del Procuratore aggiunto Dottor Gaetano Pagi e dei sostituti procuratori Dottoressa Pantano e Dottoressa Formalo con la quale sono state disposte 22 ordinanze di custodia cautelare e il sequestro di beni per oltre 5 milioni di euro L'attività alla quale hanno partecipato oltre 300 militari tra carabinieri e finanzieri ha interessato soggetti appartenenti o contigui alla cosca d'Indrangheta Longo Versace di Polistena in provincia di Reggio Calabria responsabili tra l'altro dei reati di associazione di tipo mafioso usura, estorsione, riciclaggio esercizi e attività finanziarie abusiva detenzioni illegali di armi tutti aggravati dalla finalità e dal metodo mafioso grazie